Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell'aurora. All'udienza, generale Papa Francesco ha rimarcato che il cristiano non è mai remissivo, non sta con le mani in mano, ma il coraggio di rischiare. Soffermandosi sul tema dell'attesa vigilante, il pontificio ha insistito sulla vera identità dei discepoli di Cristo, che non sono certo fatti per la noia, quanto per la pazienza, per la capacità di resistere alla rabbia e all'indignazione. Tutto infatti è orientato all'incontro con Cristo, che con una carezza ci colmerà di luce. La rassegnazione non è una virtù cristiana, come non è da cristiani alzare le spalle o piegare la testa davanti a un destino che ci sembra inelutabile. Questo non è un costruttore di pace, questo è un pigro, questo è un comodo. Non è un costruttore di pace che alla fine dei conti non abbia compromesso la sua pace personale assumendo i problemi degli altri. perché il cristiano rischia, ha il coraggio di rischiare per portare il bene, il bene che Gesù ci ha donato, ci ha dato come un tesoro. Nei saluti in lingua il Pontefice ha rivolto il proprio pensiero alle celebrazioni conclusive del centenario delle ultime apparizioni mariane a Fatima. Possa la preghiera smuovere gli animi più riottosi, ha detto, invitando tutti a levare orazioni per la pace nel mondo affinché bandiscano dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza e costruiscano comunità non violente che si prendono cura della casa comune. Grazie. Grazie. Grazie.